Si è concluso con l'uccisione di quattro attentatori, l'attacco ad una guest house nel quartiere diplomatico di Kabul. Non ci sono state vittime né civili né militari secondo le autorità afghane. L'assalto è scattato poco dopo le 11 ora locale nel quartiere di Wazirak Barkan, sede di ministeri d'ambasciate. L'hotel, preso di mira dal commando armato Taliban, è un punto di riferimento per gli occidentali a Kabul, frequentato in particolare da australiani, appartiene alla famiglia del ministero degli esteri Salahuddin Rabban. Il portavoce della polizia della capitale afghana ha spiegato che la zona era stata immediatamente circondata e che il tentativo da parte del gruppo armato di fare irruzione all'interno dell'Ethal Hotel è fallito.